Quando babbo petti rosso, al piccino da lezio, rischia notte e giorno a più non posso. Ma che, non gliela fa! Quattro celebri scienziati, son venuti da lontani, provano con sistemi complicati. Ma che, non gliela fa! Ma babbo petti rosso, qualcosa ancora tentò, andò a chiamarne il bosco, la fata rossa e or. Lei con la magica bacchetta, strano ma in vano si provò, però con la squisita tavoletta. Quanto è buono! Il piccolo fischiocco è il merito, sapete, miei signori, di chi è del cioccolato di Nestlé!